E invece, guarda poi si trasmuta nella realtà, guarda qui, vedi lo puoi cavalcare, hai capito che però ti svolta la cosa, guarda bimbo, bimbo reale, robot reale, clop clop clop, dammi la palla, ho ti uccido, mi ha convinto, no raga, il fatto che lo puoi cavalcare però è la svolta, eh sì, però questo lo rende praticamente, io ce l'avevo la gaucho, la peg pergo, la macchinetta elettrica, un bambino viaggia, ce l'avevo, ce l'avevo, ce l'avevo, ce l'avevo, ce l'avevo, io no, ce l'avevo, però i bambini nelle pubblicità andavano tipo nelle foreste, con l'acqua, io andavo nel piazzare i casani, facevo avanti e dietro, non ho mai uscito da lì, perché non abitavo nel trentino Buongiorno! 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 Un'altra settimana, un'altra puntata, immagino. Cos'è? Ma allora io inizio già a perdere la cogniziente possiamo la seconda settimana terza settimana di settembre, dove siamo? seconda, seconda, seconda dell'anno che è sbagliato sicuramente bene 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 infatti appena finita questo l'ultimo weekend della design week ci siamo spolpati abbastanza questa design week questa design week che non ci doveva essere poi c'è stata, poi erano tutti con aspettative un po' strane però dai, c'è stata dignitosissima posso dirlo secondo me io per il poco che ho camminato dopo le 6 cioè quindi proprio inutile working class hero e danni esposito c'era poco vibe post serata però effettivamente ho visto un po' di stories di gente in giro l'hai vista nelle stories degli altri, perfetto va bene, prima di passare però a raccontarvi quello che secondo noi è stato un po' un reso conto di questa design week le chicchette più belle viste in giro chiaramente vi ricordiamo ancora una volta come stiamo facendo da un po' di puntate che dal 27 settembre al primo ottobre saremo al Cersaie a Bologna la prima fiera a tornare di quelle gigantesche a tornare dopo un anno e mezzo di stop quindi noi saremo lì fisicamente vi racconteremo tutto quanto l'evento e in realtà in più dal 20 settembre quindi un pochettino prima partirà il Cersaie Digital che è un'amplificazione della fiera potete iscrivervi e registrarvi all'evento poi ci vediamo direttamente lì è gratuito a www.cersaie.it e il link è sotto in descrizione lo posso visitare in VR? in VR forse l'anno prossimo esatto l'anno prossimo va bene grazie mille quindi passiamo ma di che parliamo oggi Giuliano? non parliamo solo di design week c'è tendo a dimenticarmi di questi fogli che questa volta ho preparato esattamente visto che non parliamo solo di design week ma anche di altre cose in questo episodio siamo stati alla design week e vi diciamo cosa vi siete persi esattamente poi è arrivato il primo robot sbirro e ancora è arrivato il primo robot unicorno che momento magico e infine il contraccettivo per uomini che funziona come un tè caldo e la bustina sei tu va bene poi ve lo spiego dopo non si è capito un cazzo no ve lo spiego dopo niente ve lo spiego dopo allora no Giuliano non si dice sbirri ma senti non me ne frega niente lo dico da 4 anni non è successo ancora nulla per cui ma quando mi cercavano non è perché allora aspetta challenge subito mettetemi nei commenti per favore tutti i sinonimi di sbirro che conoscete no no perché così la prossima volta dirò quello che vi era consigliato però non sarei volgari sbirro non è volgare è folcloristico è colorito come l'hai curata noi gente del popolo salutiamo tutte le forze dell'ordine che ci serve che si proteggono un lavoro meraviglioso allora partiamo appunto da cosa ci siamo persi nella design week e poi effettivamente vediamo tutte le cose che sono successe l'altra settimana perché ci sono delle cose tanto interessanti assolutamente sì ovviamente bene sì design week al volo come diceva Nanni in realtà non sono molto d'accordo perché io le vibes le ho sentite poi la seconda serata tu hai vissuto la design week mattutina esatto quella della gente quella faccio cose assolutamente quindi vabbè non c'è un cazzo da fare sì sì ma assolutamente lo dico con grande orgoglio allora cinque cose velocissime che mi sono piaciute perlomeno magari alcune di queste avete già visto perché hanno bazzato un po' se siete passati da Milano ci siete passati me lo auguro in primis Hermes in un posto incredibile che è la pelota e di fatto era uno stadio del della pelota della palla basca Jayalai che non è bellissimo ti giuro ti giuro si giocava all'inne prima del 97 no Nanni palla basca Jayalai non so se la pelota è la stessa cosa di questa roba qua Jayalai Jayalai è un gioco mi sembra che sia di origine di origine abbiana lascia perdere comunque bellissimo se basca è di origine va bene va bene santo cielo tu non preoccuparti poi ci penserà qualcuno a correggere questa informazione non instillare dubbi comunque mi è piaciuto un sacco questa installazione in realtà erano quattro gigantesche case realizzate poi all'interno contenivano tutti quanti i pezzi della collezione di Hermes casa ah eccole le vediamo qua le vediamo qua un orgasmo di graphic design proprio perlomeno quello che a me principalmente ha colpito quanto costava un piazzo no non c'era mica stavano i prezzi che sono clamorose veramente un bellissimo allestimento poi era molto magico chiaramente si entrava scaglionati era tutto abbastanza un po' di libertà tranquilla l'esperienza se vogliamo e il posto in realtà rendeva tutto abbastanza tutto ancora più entusiasmante ecco dalle foto si fa molto bello mi sono eccitato abbastanza a vedere tutta questa parten geometrici insomma poi sono una persona semplice veramente mi emoziono con poco era molto bello era molto bello ci avete seguito su instagram durante la design week appunto qualche shot è arrivato anche a voi poi un altro che mi è piaciuto tantissimo non sa come l'hanno parlato di alcova alcova esattamente alcova alcova è uno di quei brand che non si smentisce mai se vogliamo alla design week ogni anno perché ci è passato negli anni scorsi ha sempre fatto qualcosa di figo quest'anno non tanto per quello che è stato esposto perché alla fine boh ok io non sono proprio cioè non mi fanno impazzire le robe dove ci sono non so studi bellissimo che però mettono lì le proprie cose no che va bene sicuramente non sono io no per gli architetti sicuramente ha molto più interesse perché vanno lì a conoscere studio a conoscere designer magari si fa un loro network a me non fa impazzire però in questo caso alcova più che altro ha avuto la bellezza di andare a scovare un posto incredibile un posto ovviamente nel nulla più assoluto va detto è un ex ospedale militare anzi è un ospedale militare ancora lo è di fatto e e quello ha reso tutta quanta la situazione estremamente matta super figa poi c'erano chiaramente anche le installazioni un po' più esperibili quelle che a me piacciono quelle da veramente carine insomma infatti questo diciamo è uno mi ricordo quando giravano per Milano nel giorno durante il giorno che poi è una delle cose belle della The Sand Week perché praticamente apre le porte a spazi che fondamentalmente non andresti mai assolutamente oppure sono chiusi quindi sono giardini privati sono posti magari destinati ad eventi che invece si aprono e quindi praticamente puoi anche vedere una Milano completamente diversa assolutamente sì anzi è un punto veramente killer della The Sand Week a dire di quello che poi ti viene fatto la gente che puoi beccare in giro e appunto questi spazi assurdi che sennò c'è un testimone però noi in Caffè Design difficilmente durante l'anno trattiamo questo design che è il design tradizionale è il design che le persone conoscono è del design che spaventa e che è poco comprensibile no? sì allora secondo me proprio perché abbiamo imparato nel tempo che Caffè Design è seguito anche da tantissimi non designer il bello di queste esperienze è il fatto che forse non ti devi fare domande cioè tu vai le guardi e basta se poi ti inquiosisce puoi approfondire senza problemi poi ci sono molto spesso ci sono addirittura i designer stessi lì che aspettano solo di essere coinvolti di fatto e questo è molto bello però è vero difficilmente la Chiam fondamentalmente la Design Week nasce come la fiera del mobile quindi c'è comunque il design molto nel fuorisalone c'è comunque molto arredo sì però capito vai in questo spazio in questa stanza non ti devi domandare ma che cos'è questo vaso ma tu ti fai l'esperienza ti fai la passeggiata ti guardi le cose e assorbi ma è roba che il me studente di qualche anno fa avrebbe odiato perché io odiavo questa parte del design però non è che quando vai da Ikea dici che è sto vaso però là lo capisci dici questo vaso è un vaso lo capisco dove lo posso mettere in che stanza no e qua invece è un po' più vabbè è un trattamento differente è un po' più difficile da capire esatto sono oggetti comunque più ricercati ad esempio parlando di vasi al base c'era un esibito non al base al super studio c'era un esibito un esposizione tu ti stai ricordando dell'inglese un esposizione con 100 vasi e appunto ogni vaso aveva un significato il motivo per cui era così cosa che magari il vaso di Ikea è semplicemente un vaso facile da produrre boom e finisce lì stai facendo sempre comunque è comunque meno no volevo semplicemente mandare un messaggio a quelli che probabilmente ci stanno seguendo e stanno dicendo ma che è sta roba ma che è sto schifo posso un po' capirlo perché effettivamente nel me del passato da studente io questa roba non la sopportavo perché non la capivo e foro ho imparato nel tempo a farmi meno domande su alcune cose perché alcune cose stanno bene lì non ti devi fare domande infatti allora infatti anche a me della Resend Week tutta l'esibizione di sedie di vasi non me ne frega quasi un cazzo la bestia esatto non me ne frega quasi niente appunto la cosa bella è vedere le installazioni la gente per strada le vasi quelle la rosa bene infatti mi collega questa cosa ma che è sta roba la Resend Week è l'esempio della procrastinazione più assoluta tu vai là in giro ciò che ti cioè magari questo coso che può essere un vaso per un fiore ha una forma stramba per dire per dire una a caso magari tu l'hai visto lì ti entra questa forma nel cervello tu stai lavorando a qualcos'altro è un momento in cui assorbi ci sono tanti input girando semplicemente senza pregiudizi stiamo dicendo che è un Pinterest nella vita vera assolutamente sì assolutamente sì poi a proposito di vibes in statale anche lì sempre si esprimono sempre belle vibes anche perché anche la statale effettivamente non è che ci capi quasi mai a meno che erano uno studio in statale il giardino lì è bellissimo incredibile è bellissimo e anche quest'anno bellissima exhibition c'era il buon Giovannoni che anche lui è sempre presente la design week che si è comprato praticamente dalla parte centrale e poi c'è una serie di piccole installazioni no non sarà ospite però salutiamo salutiamo Giovannoni no tanto rispetto un paio di party a casa sua l'abbiamo fatti anche in altri tempi meraviglioso salutiamo tutta la casa la famiglia di Giovannoni no bellissime situazioni tra l'altro c'era questa installazione di un brand dei rubinetti di cui non ricordo il nome che era molto carina molto concettuale tu ti avvicinavi c'era una personcina dietro degli spioncini e ti allungavano si tirava un pugno tu passavi avanti faceva vuoi dell'acqua fresca e poi ti allungavano un piccino ossia avrei proprio bisogno dell'acqua fresca è stato molto divertente comunque statale è stato molto bello altrettanto e poi un ultimo consiglio un ultimo resoconto più che a un luogo a una persona che è Maurizio Cattelan che di fatto ogni anno se ne escono un qualcosa insomma è il proprietario quasi della design week che quest'anno ha aperto la toilet paper home che non so se resterà poi aperta anche nel resto dell'anno che è questo edificio che già era lì tutto bello toilet paperato in zona piola e adesso l'ha aperto le porte ci poteva entrare mattissimo dentro vabbè chiaramente costi costi toilet paper e poi quello che vi stavo facendo vedere adesso breccia è alle piscine Cozzi che è una piscina sempre qui in zona Porta Venezia appunto ha fatto questo murales gigantesco bellissimo gigantesco che resterà però questo qui pare fino all'anno prossimo quindi sarà visitabile anche da chi l'anno scorso lì c'era la luna c'era una luna gigante esatto è un posto bello di piscine Cozzi Cozzi signor Cozzi era bellissimo adesso si poteva anche nuotare probabilmente sarebbe stato ancora più bello se fossero state visitabili cioè utilizzabili però evidentemente per il covid guardate qua aspetta aspetta qua per far vedere la mostra in cui parlava Nanni c'era una luna gigantesca in mezzo all'acqua era veramente super assolutamente avete capito appunto che a noi ci piacciono più parlo per me queste robe qua più installative meno del resto senza voglia la tu gliela al resto però insomma voglio dire quest'anno sono mancate purtroppo quelle grosse esposizioni famose tipo la Google classica Pepsi le varie quelle grosse che dici devo andare mini devo andare lì perché so che c'è qualcosa di pazzo quest'anno ed era lecito proprio perché sono quelle che costano di più sono quelle che hanno bisogno di una programmazione molto più lunga e dal momento che fino a tre mesi fa era tutto incerto evidentemente hanno deciso di ok ciao anno prossimo la chicchetta vera che mi sono gasato a scovare completamente a caso è l'exhibition invece dell'Ecal svizzera di Lausanne se non sbaglio e lì veramente hanno fatto un'indagine molto artistica concettualissima su utilizzo dello smartphone c'erano questi robot le tue storie le mie storie stesse complimenti grazie a me appunto dove si interrogavano sull'utilizzo dell'ossessione da smartphone quindi c'erano delle macchinette cinetiche robot che so scrollavano all'infinito oppure altre che dei progettini molto simpatici sull'utilizzo dello scrolling sempre dello swipe di Tinder esatto c'era una macchina che swipeava bellissimo veramente figo sei rimasto lì un'ora a vedere meglio tutte comunque molto figo bravi bravi bravissimi questa però scusami questa è arte contemporanea ma questa in realtà è più che altro esperimentazione è anche design perché alla fine c'erano molti prodottini che ok dici tu non possono essere messi in commercio però è ricerca è ricerca sul concetto è un progetto di ricerca chiamalo come vuoi non voglio clastralizzarlo per me è design anche quello quella roba là considera che comunque usava un'intelligenza artificiale per fare swipe left right delle persone che vedeva comunque c'era un e poi è il posto dove ho rubato più carta quest'anno a design week mi piace rubare cose pezzi di carta figa bravi svizzari sempre una certezza honorable mention finale a base che ospitava un po' di università italiane cioè sì italiane dico bene quindi fa sempre piacere vedere progetti degli studenti c'era anche il poli c'era il need c'era lo yad anche un po' di amici bolzano cose delirio molto bello molto interessante e anche tra l'altra base anche c'era questa la mini house d'ikea anche quella molto figa tutta piccolina cose che uscivano cose che entravano attrezzini estremamente interessante poi come siamo anche prima in anni al super studio ci siamo stati noi per quattro giorni a seguire l'hackathon insieme ad ayer effettivamente anche ayer ha fatto un'installazione abbastanza interattiva un po' una di quelle con più fila esatto quelle con più fila che era un po' più esperibile se vogliamo quindi molto bello in generale io mi sono divertito un sacco a questa design week e viva e viva belle vibes drinkozzi cose entusiasmo quindi io mi aspettavo zero e avese cento molto bello molto bello cento ottanta cento emoci del cento è strafigo è strafighissimo tra l'altro grazie mille a tutte quelle persone che ci hanno beccato in giro saluti cose meravigliose sempre straordinario che entusiasmo va bene ma non finisce qui non finisce qui anche perché se ci avete visto all'inizio di questo mese abbiamo raccontato che abbiamo un mese manco i maneschi probabilmente nel tour degli stadi e infatti design week che finisce graphic days che iniziano entusiasmo incredibile settembre è un mese incredibile sia per la quantità di cose che escono che per gli eventi esatto è un mese folle da sballo quindi appunto per ricordarvi che dal 16 al 26 settembre ci sono in torino graphic days tornano ancora una volta noi il 17 e 18 saremo fisicamente lì il 17 in particolar modo per raccontarvi quella che è l'esperienza esterna al posto al tour box co-working dove si verificano tutte le mostre che è graphic days in the city quindi gireremo come dei matti per tutta torino gli studi saranno aperti molte mostre cose situazioni eccetera e quindi anche se ci beccate dateci un pugno e fermateci per strada perché saremo lì a vedere un po' di cose dateli a riccardo solo se riprendete il momento così faccio un continuo esatto per favore come minimo l'edizione di quest'anno è legata l'hanno chiamata touch è un po' il filrucci tutta quanta l'edizione e appunto avrà a che fare con modi di interazione nuovi anche linguaggi visivi cose del genere ho letto spoilerone che prima di entrare al toolbox ci sarà una dark room dove tu dovrai toccare delle cose oggetti matti luci poi lo vedremo però questo è una partono le denunce cose incredibili va bene quindi vi aspettiamo a Torino 17-18 ci siamo noi comunque tutti i 10 giorni visitabile tutto quanto io voglio dire subito una cosa però andremo sicuramente andremo sicuramente da Illo no più basso da Illo perché anche gli amici di Illo hanno il loro studio aperto quindi Kentacci sarà la loro la loro exposition io saremo là sicuramente a rompere le palle il 17-18 il 17 e basta nanni vedi quando parli poi sbagli e basta saremo là e anche da Newtab Studio Newtab Studio quei matti di Gabriele Trigordi scatenati anche allora l'esposizione sui meme con Aestandro Lolli non ci chiederei mai una combinazione galattica quindi sicuro la ci passiamo poi vediamo ci vediamo in giro con i pugni va bene meraviglioso quindi tutte le informazioni comunque su Graphic Day se le lasciamo anche qua in descrizioni bene 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 sito bello sito bello lo lanciato io sito bello sito bello sito bello allora sito bello di questa settimana è dedicato a Matrix perché a quanto pare sta per uscire un nuovo Matrix il 4 corretto si dico bene a quanti anni di distanza dall'altro un milione 16.000 16.000 anni esatto dovrebbe essere una notizia sti cazzi se solo avessi visto Matrix esatto vai balanceatissima benissimo e invece un sito sti cazzi sito ma infatti si un sito bello forse perché è il più interessante per lanciare un film esatto è quello è un momento iconico del film praticamente c'è ti fa vedere la scelta chiaramente iconica come dici tu delle due pillole e ti fa vedere due teaser trailer diversi eh no ti sbagli in realtà a parte che la cosa inquietante è che durante il trailer ti dice sono le sei e un quarto ogni volta dice l'orario preciso a serio ed è molto angosciante questa cosa e poi da quello che ho letto su internet in realtà in base all'orario a cui vai c'è un mini teaser trailer diverso ovviamente anche in base alla piccola che prendi si 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 in realtà c'è un altro ah è vero ha detto l'ora di adesso si si vedi è clamoroso assolutamente così è abbastanza angosciante e in più sto dicendo c'è un un matto un coder ha sgamato ha fatto un altro sito dove tu puoi inviare tutte quante le combinazioni possibili in maniera molto più senza togliendo tutta la magia della cosa io ho solo una domanda perché c'è John Wick in questo Matrix un classico degli sviluppatori distruggere la magia che i designer hanno creato guarda il trailer è uscito anche il trailer quindi lo vedremo sicuramente Matrix perché siamo fan per lo meno io lo sono però mi ha detto che questa cosa è vera abbiamo sta parlando prima con Riccardo effettivamente si è diventato John Wick Matrix che comunque non ho visto questo non avevo dubbio se quando John Cena vede film di merda però aspetta è interessante perché anche stilisticamente Matrix aveva aveva una sua estetica c'era la pelle con gli occhiali lì secondo te quello stile lì applicato adesso sarebbe stato sopratore fuori contesto sopratore probabilmente sì probabilmente molto fuori contesto col gel sai dai è il classico è il classico teacher e sarò il giornale il pazzo di tour cioè no ma c'è ma non so effettivamente si è un post cyborg si può fare il 2021 dai forse no infatti non lo so sono curioso è sexual harassment proprio da da quando ma nanni ma signori e signori stiamo discutendo non si può fare non si può fare non poi andai in giro con un cappotto di pelle nero e gli occhiali ma perché ma tu nel 2021 ma sei fuori ma sei ma altra volta criticavi Lino Banfi c'è tutta una community invece di di appassionati di metal si però con il gel e gli occhialini neri e va bene ti aspetto col gel e gli occhialini neri non è più il momento storico per fare non dico che è brutto non dico che è brutto ma non è più il momento storico per fare vabbè questo è un parere di nanni assolutamente non richiesto ti aspetto un anno col gel e gli occhialini neri e con la mortella sotto al braccio sotto al giubbotto esattamente al Cersai a Bologna dal 27 settembre saremo ancora lì appunto e in queste puntate appunto vi daremo un po' di spoiler rispetto agli eventi singoli che si verificheranno senza che stiamo ripetando ogni volta la stessa cosa perché di fatto una delle cose molto interessanti che andranno a succedere è questo caffè della stampa dove si alterneranno per tutti quanti i giorni le conversazioni tra i big dell'editoria dell'editoria del design in generale quindi ci sarà Domus ci sarà El Decor ci sarà interni insomma tutti questi ad tutti questi big già detto grazie e conversazioni tra di loro e tra architetti e designer celebri ovviamente poi chiaramente i temi spazzeranno tutti quanti i giorni si parlerà di sostenibilità si parlerà di design di architettura di nanni c'è poi una su di te credo su design di nanni ne parleremo ma quindi anche il pubblico poi può fare domande tipo domande scomodissime ma lei signor nanni perché non avete mai parlato di possiamo farlo non possiamo farlo noi ci mettiamo lì nella platea con i bassi dico ho il giubbotto di pelle ti alzo sono fierfausto di tuttobagno.com che sicuro esista adesso guarda adesso ovviamente gli ho detto e fai una domanda scomoda su quanto è scomodo il bagno nel 2021 e a me che ha bisogno di una giustata perché i water sono ancora così scomodi perché esistono ancora i water e i water non si sono fusi questo però è un articolo device esatto esatto e lo mandiamo a loro perfetto quindi niente ci vediamo dal 27 settembre a primo ottobre seguiremo anche questa quest'altra parte qua il caffè della stampa tutte le info sono chiaramente giù in descrizione il link di prima lo stesso registratevi gratuitamente molto bene nanni mi fai un titolo device sul water allora vi spiego come vi spiego come trattino ho scoperto da dove deriva il water ma non sapete perché c'entrano gli adstechi esatto ovviamente cosa lega i water e gli adstechi esatto ho provato a usare a non usare il bidet per sette giorni con la cocaina no ho perso un dito va bene dai andiamo avanti a proposito di queste cose matte la seconda puntata la parte della puntata è dedicata ai robot che bello sono usciti un po' di robot incredibili questa settimana raga siamo in perché mentre stavo scrivendo prima stavamo vedendo un po' la puntata effettivamente ti rendi conto di come noi ormai ne parliamo sono due anni tre anni forse ne parliamo assiduamente di robot e poi man mano che vanno avanti le cose questi diventano sempre più completi complessi ed è interessante il primo che vi facciamo vedere è questo qui Xavier Xavier non lo so che forse si chiama così per via dalle quattro ruote eh non lo so eh non lo so a parte che va bene Xavier l'aveva due l'avevo quattro vabbè comunque che cos'è è un robot dedicato alla sicurezza lo sbirro che ha lo sbirro di prima salutiamo le forze dell'ordine grazie abbiamo un sacco di amici nelle forze dell'ordine esatto che si occupa semplicemente di una parte dell'ordine cioè quello del distanziamento sociale allontanati allontanati c'è un M16 installato a Singapore quindi che arma ha per impedire o per per limitare questa cosa qui va vicino alle persone e dice ehi tu sei troppo vicino e poi se ne va e se ne va sì e tu dirai perché si mette in mezzo due persone il contesto Nanni però è che siamo a Singapore e le persone lì sono estremamente educate tu gli dici qualcosa allora lo fanno esatto anche perché ci sono regole un po' strane in cui stiamo avvicinando per alcune tipologie di regole molto alla cilina quindi hanno iniziato a utilizzare il riconoscimento facciale per la sicurezza insomma un poliziotto anche digitale in questo caso meccanico che ti guarda o comunque prende la tua faccia e tu risulti come uno che ha fatto qualcosa di illecito non lo so basta basta per sì inizia ad aver paura di fare qualcosa di illecito molto bene molto bene se trovate delle scatole delle scatole con le ruote ho paura un coso di questi finirebbe welcome to favelas in Italia probabilmente buttato appeso a pugni a tutti in Italia cosa potrebbe succedere qualora arrivassi un robot di cosa non potrebbe succedere il limite è solo l'immaginazione assolutamente tra l'altro singapore sembra che fosse anche il primo posto dove avevano testato spot mini nei parchi durante il covid signori sono lottani sì io esatto mi aspettavo tipo che fa pistole ti spara l'acqua fa vibrare tipo fa un mini terremoto sarebbe bellissimo lo dico alla mamma bene dopo un robot sbirro lo dico per la quarta volta in questo episodio complimenti a me c'è anche all'altra parte una controparte un po' più ludica con questo pony unicorno che fa cagare che fa cagare sembra tantissime cose non voglio elencarle alcune sono sessualmente esplicite probabilmente no dai non c'è nulla di sessualmente dai ma dai per piacere ma scusi senti a parte che ha un unicorno ha la faccia da panda praticamente sembra allora lo dico sai che sembra sembra Arceus il pokemon sei per i fan dei pokemon allora eh sì viene introdotto con questa animazione infatti pensavo fosse una roba un concept bambino e invece guarda poi si trasmutano nella realtà guarda vedi lo puoi cavalcare è capito che però ti svolta la cosa è fatto apposta per essere cavalcato guarda il bimbo bimbo reale robot reale clop 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 dammi la palla ho ti uccido mi ha convinto tieni tieni la palla la palla che è? no per giocare no per giocare per giocare per giocare no il fatto che lo puoi cavalcare però è la sfida però questo lo rende praticamente come dicevo la gaucho la pegpere con la macchinetta elettrica un bambino viaggio ce l'avevo ce l'avevo ce l'avevo privilegiato ce l'avevo io no capito però quanti sogni che ha cioè i bambini che guardavano con la pubblicità hai capito cavalcare un lama robot sì beh sì abbastanza però i bambini nella pubblicità andavano tipo nelle foreste con l'acqua io andavo nel piazzale di casa mi facevo avanti e dietro non ho mai uscito da lì perché non abitavo in Trentino dove ti potevo andare potevo andare il mio padre cioè giustamente i miei dove ti facevano andare come si chiamava gaucho io mi chiamavo peg peg gaucho vediamo un po' se lui eh sì è tipo modelli nuovi che benessere questo modello nuovo super accessoriale il mio era stiamo parlando degli anni 2000 scusate dobbiamo vedere la pubblicità che c'erano i bambini che andavano è lei è lei che cazzo devi fare queste cose stai fuori mi ricordavo lo schizzo d'acqua della giungla la pubblicità della Jeep che tipo puoi farlo esatto puoi farlo però il genitore che ti manda a fare queste cose a meno che è tutto il rispetto comunque tornando sul robot non è che in block probabilmente esatto tornando tornando sul robot che l'ho perso dell'unicorno dove sta va bene verrà commercializzato in realtà ancora no è un concept di questa azienda cinese molto molto grossa niente cosa si fa di solito fanno questi progetti che sono proprio sperimentali perché uno le tecnologie che costruiscono poi le riutilizzano per mille altre cose due se effettivamente vedono che c'è dell'interesse magari qualcuno di grosso Boston Dynamics fra cinque anni fa effettivamente una roba per bambini loro sono già pronti è una roba interessante chiaramente attualmente infinitamente costosa però dai effettivamente potrebbe essere un'evoluzione da un punto di vista ludico io lo comprendo alla grana anzi questo qua il bambino si svaluta si scherzata con un cavallo cioè altro che è una svolta oppure il bambino sta a scuola e tu dici al cavallo qui unicorno valla a prendere per saltare le interrogazioni meraviglioso va bene ok a fallimenti invece ci sono anche stati questa settimana in realtà voglio raccontarvela così questo settimana scorsa prima di registrare la puntata che uscì da lunedì è arrivata una notizia freschiva dalla nostra dedazione che sono tutte le persone che lavorano lì di fronte a noi non li vedete ma sono centinaia che ci mandano le notizie arriva questa non è vero arriva questa questa notizia di un comunicato di un post in realtà su facebook della regione dell'asda della regione lazio che avvisava tutti i bagnanti di ostia che il giorno successivo ci sarebbe stata questo controllo della temperatura a distanza con un drone e noi là wow il futuro incredibile in norvegia benissimo polemica però a me sembrava una cosa tutto sommato divertente quantomeno non lo so comunque in futuro le cose non si è fatte ovviamente perché è saltero tutto il giorno dopo perché polemica perché polemica scoppia la polemica di fatto questo drone doveva passare nella spiaggia e controllare la temperatura e sparare quelli e sparare quelli chiaramente con la temperatura in alto per eliminarli definitivamente dalla faccia del pianeta e invece non è successo per questo problema proprio il meno sai che ho notato adesso cioè tanto la notizia è finita era una notizia completamente inutile era perché fallita la grafica di regione Lazio è tipo quelle cose che si faceva da bambini sui quaderni ah è vero con i quadrettini esatto con i quadretti che fai tipo che cazzo che cazzo che cazzo l'ho fatta ci sta ci sta un bambino aveva il quaderno quadrettato esatto che logo che logo faccio questo usiamo questo no vabbè molto bene dai comunque mi dispiace che non sia andato in porto sta cosa per quanto poi chiaramente era un po' borderline la realtà dei fatti che effettivamente era molto molto più complessa tu hai la tecnologia effettivamente che ti permette di determinare la temperatura a distanza è ok fantastico però cosa succede qualora effettivamente trovi qualcuno che ha il covid che ha la febbre che ha la temperatura più alta solitamente tu una cosa la puoi fare ma tutto il processo è molto più complesso perché che fai lo allontani poi ti sbagli questa persona qui spari spari a pista è così semplice no scherzo no vabbè dai però effettivamente è vero molto più complesso di quello che poteva sembrare effettivamente spaventa la cosa assolutamente quello sicuramente questo mi piaceva se voglio dire per qualche motivo tu sei accaldato e hai la non lo so sotto al sole me lo aspetto pure esatto fa tu tutti guardano lui io lo giuro che stavo bene stamattina insomma grazie a questa tecnologia hanno trovato il tabaccaio che no vabbè non parleremo di questa cosa vabbè non importa grande allora dai andiamo avanti Nanni questa me la spieghi tu per favore perché sei il nostro scienziato semplicemente era parlando tempo di robot perché i robot hanno un grande limite non salgono le scale tant'è che Dyson cioè i robot ad esempio quelli l'aria puliscono Dyson ha pensato facciamo una cosa che sale le scale e ha fatto un brevetto per fare le scale è molto interessante assolutamente bellissimo è bello così i robot potranno salire le scale e puoi anche aprire cassetti no perché hanno pensato anche che effettivamente un'altra cosa che manca ad esempio i robot che puliscono è la possibilità di muoversi cioè muovere tipo una tazza spostare se c'è una roba a terra gli serve una mano eh certo quindi alla fine alla fine ti fa capire che anche un po' Dyson sta partendo magari dai dalla schierapia però stanno arrivando anche loro a un qualcosa con una mano che possa dire le scale probabilmente sarà completamente diverso dal spot mini quindi con delle ruote con delle gambe però anche loro stanno cercando si stanno muovendo in quella direzione piano piano lo stanno rendendo sempre più autonomo quindi breve è trepositato quindi in un futuro oltre che mettere a posto ti diranno senti io questa cosa è la terza volta te la metto a posto no dove stanno le cose esatto dove sono i calzini oh ehi allora i calzini sono sempre non si sono mai spostati da là questa casa non è una bella parlando di Dyson appunto ah bellissimo ogni anno ne parliamo perché ogni anno è una delle cose più belle dell'anno assolutamente è il tuo compleanno no sì è il compleanno di Sir James Dyson che per il suo compleanno ha fatto un premio di milioni di dollari allora prima di raccontarlo effettivamente vorrei far vedere l'immagine chiedo a grande Sara che sta già inquadrando allora è un prodottino tecnologico chiaramente perché ha dei led e delle robe varie che effettivamente qua c'è piccolo spoiler l'hai pinciato proprio si sente come una tazza cosa fa questa tazza da questa forma così bizzarra bizzarra benissimo ci metti ci metti a mollo la bustina la bustina del tè allora vabbè fondamentalmente è un contraccettivo maschile perfetto perché giustamente la domanda è perché il contraccettivo deve usare solo le donne ci sono anche contraccettivi maschili però non ce ne sono no là ne abbiamo uno con l'arancione questo qua è la versione prima di questo questo qua è una versione diciamo che non utilizza medicina non utilizza ormoni benissimo e non è non è permanente benissimo e quindi come funziona allora forse saremo un po' aspetta un attimo aspetta un attimo no 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 volevo fare un attimo nel corpo umano hai ragione anche tu sì sì scusa un racconto di cos'è il Dyson Award Dyson Award è una un contest annuale dove vengono vengono candidati vari progetti a livello tecnologico a livello di progettazione estremamente innovativi perfetto si parla di altissimi temi davvero l'anno scorso non voglio sbagliarmi vinse la ragazzina che vinse forse la foro quella dell'università se non sbaglio era quello legato alla cura del cancro al seno comunque questo è veramente estremamente complesso temi altissimi tipo risoluzione della fame nel mondo di di portare l'acqua dove non c'è eccetera eccetera benissimo roba figa insomma cosa è bene questo qui è uno dei vincitori nazionali quindi non è un vincito al Dyson Award che quindi è candidato al Dyson Award globale al big premio bene dai Breccia raccontaci cosa fa questo coso ma non lo so bene bene dentro ci metti dentro questa tazza immaginate una tazza perché non sta guardando ci metti l'acqua l'acqua si riscalda perfetto dentro ci metti i testicoli a mollo a mollo esatto poi prendi un'app l'app attivi il scalda testicoli da mo vale esatto da mo parte e partono degli ultrasuoni all'interno non sto scherzando ecco è tutto bene chi hanno suoni all'interno di questa tazza con l'acqua tiepida e le palle e le palle che sono già e i testicoli sono già in ammollo e guardando l'app dopo circa 3-4 minuti ti dice è pronto i testicoli sono pronti sanificati immunizzati rende inattivo gli spermatozoi e quindi effettivamente vai con dio senza paura tigre la tecnologia è completamente misteriosa ma nel senso non riesco a capire effettivamente come possa addormentare diciamo così che tiene la magia questo io chiedo che tiene la magia però appunto prima ne stavamo discutendo perché per quanto tempo le addormenta ci sono un po' di dettagli che mancano in questo momento perlomeno alle descrizioni che abbiamo trovato su online poi anche sul sito del designer world che vanno proprio a mettersi nel caso d'uso quindi dell'uso experience di questo prodotto tu c'hai pronto quando lo usi scrivetelo nei commenti esatto fatevi un'idea di come potrebbe essere poco prima durante ogni mattina tutte le sere prima di andare a letto prima di dopo i pasti quando ti viene la stringola al lavoro al lavoro esatto durante una puntata di caffè design tipo in questo momento no sarebbe meravigliato adesso no e poi dall'altro l'altra cosa è che non si capisce quanto dura l'effetto cioè effettivamente lo fa sempre e poi vi fidereste vi fidereste perché poi la fiducia è un grande generale non avere un feedback no la fiducia in un contraccettivo è effettivamente uno degli aspetti principali cioè non è che la fiducia la fiducia però non è che poi i testicoli ti diventano fluorescenti e dici beh da me è ok quando sono fluorescenti e dici vabbè esatto bello no dico ma anche funzionale in realtà dall'altro dal buio funziona dal buio si illumina dal buio fa l'illuminare dal buio no quindi non è questo tipo di feedback per cui non capisci quando no ci sei non ci sei sei pronto salto nella guaglia metto il coso ci sono proprio quei progetti belli che onestamente fanno piacere fanno piacere nanni ti avevo chiesto ti avevo chiesto una cosa di accendere quella luce te la sei scordata ti hai scordata la luce spenta va bene scusa sei più illuminato sei più illuminato dal solito parlando di illuminazione sei bello lo stesso io sono un illuminato sei bello lo stesso il prodotto in realtà è anche molto bello esteticamente è la tecnologia qualora dovesse funzionare oggettivamente svolta totale ah no assolutamente votato totale ricordiamo ricordiamo che appunto non evita le malattie sessualmente trasmissita pubblicità progresso però comunque però comunque ad ora il preservativo resta uno dei migliori si però se fai sempre la stessa persona fai test con regolarità riguardo le malattie non sono un medico non mi sei ok sicuramente è fatto per chi ha rapporti sessuali insomma frequenti stabili in maniera generale vi chiedo solo una cosa come faccio cioè devo fare uno squat mi siedo no c'è c'è una immagine c'è un'immagine spiegativa ah sì c'è la mutua questo qui no ah sì è bisogno di una sedia e poi la metterò apposciate dentro deve essere anche molto comodo mi immagino le pubblicità lo puoi usare anche a lavoro esatto le cose tipo prima riccardo non poteva sedersi e c'è c'è l'uomo che fa così ora con questo appoggia perché ho l'improvviso prodotto a televenti però venderebbe tanto speriamo incrociamo le dita va bene a proposito di tecnologie rivoluzionari è assolutamente innovative forse ecco parliamo di Rayban e della collaborazione con facebook no perché voglio un piccolo apostilla nei momenti di cui ve la stiamo dicendo non è ancora uscito l'ufficiale va bene rumor leaks pensiamo che probabilmente fino a lunedì ecco sarà uscito questo prodotto i leaks dicono che appunto la collaborazione che ha già stato annunciato a Rayban e facebook nella produzione di questi di questi smart glasses con l'alta aumentata stia succedendo in sostanza quindi si stia per essere lanciato pare sia nel Wayfair nel Wayfair il Meteor e i comunque tre modelli iconici di Rayban bene che avranno due fotocamere fondamentalmente avranno due fotocamere per riprendere probabilmente quindi come fa tipo snapchat non avrà uno schermo per creare la realtà aumentata ma la realtà aumentata sarà creata via software dal telefono quindi magari con dei filtri instagram con altre robe quindi aumenterà diciamo per chi ti guarda tramite facebook guarda in realtà però su questo non abbiamo informazioni certe perché sappiamo effettivamente che le telecamere riprenderanno così come funzionano gli occhiali di snapchat e da quello che ho capito anche in formato circolare che secondo me è una figata è una roba che come gli spectacol esatto che ho spinto da sempre perché se tu registri col formato circolare da lì puoi ritagliare il verticale l'orizzontale quello che ti pare puoi fare anche quelle cose fighe che si ruoti il dispositivo rimane centrale puoi fare le figate incredibili non sappiamo effettivamente se apparirà qualcosa effettivamente indossando questi occhiali tu vedrai una realtà aumentata non ti sa ancora dicono di no il fatto è che questo qua scusate mi stiamo venendo in questo momento si immergia si mixa un po' con il progetto area di facebook o lì sì assolutamente però poi là avevano annunciato cose molto più interessanti cioè tipo di mappamento dei semafori strisce pedonali quella roba la cittadina in teoria con due fotocamere puoi avere una vista 3d quindi non so poi vediamo insomma sicuramente cosa uscirà ne saprete di più anche voi in realtà sarà questione di ore perché il sito dedicato di Ray-Ban è attualmente oddio aspetta un attimo no è uscito non c'è niente è proprio lo store è offline perché sta uscendo della roba quindi questione di tempo cosa interessante è che effettivamente hanno fatto dei videoteaser sulla pagina instagram di Ray-Ban molto 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 belli che hanno detto effettivamente parliamo di futuro parliamo di visori ma non parliamo di robe strane in realtà il futuro è il passato in realtà è il classico e per quello hanno utilizzato la forma wildfire tradizionale e poi sono usciti questi video su twitter del responsabile della parte di realtà aumentata di facebook gioca con Zuckerberg che effettivamente esatto gioca con Zuckerberg ti fa capire che Zuckerberg è una persona normale è umano non mi azzarderà dire è normale però guarda come salta salta a disagio però la cosa bella di questi di questi questi video è che effettivamente il punto di vista è esatto degli occhi cosa che comunque con la GoPro con tutti le altre tipo di telecamere per quanto piccolo è decentrato e qua la cosa che noti che fa la differenza è proprio la testa come si sposta cioè il punto di vista è quello veramente umano umano assolutamente vedi c'è la mano potrebbe essere evoluzionario anche per vlogger e quant'altro per le stories molto molto no per le stories effettivamente vai in vacanza e che dici ma aspetta faccio una story ben canoa piuttosto di dire porta il cellulare faccio delle stories tu ti porti l'occhiale e no infatti è bellissimo è incredibile bene allora a parte di questo volevo chiudere con una domanda per chi è rimasto fino a qua e seguito tutto questo qua vi volevo chiedere ma voi no perché è un sondaggio personale della realtà aumentata e degli occhiali del genere ve ne fotte qualcosa domanda libera perché secondo me non c'è molto hype rispetto a queste cose normalmente ecco ed è un problema di comunicazione a mio parere è un'indagine quindi magari commentate se non gliene frega niente non me ne frega niente proprio così anche senza contesto non me ne frega niente non è un sinonimo di sbirro se non sbaglio quella è un'altra richiesta non me ne frega niente me ne frega qualcosa magari se vuoi raggiungere io ho un'altra domanda per voi vai allora secondo voi prezzo 3,99 prezzo 300 avevo detto anch'io allora vuoi fare dovremmo costare 150 vuoi fare 150 3,99 400 io sono 3,69 anche 100 io dico 2,59 se esce a 2,50 top 2,50 è veramente un prezzo incredibile infatti si è come l'altra volta 3.000 euro quelli di Apple vabbè sono ragazzi va bene grazie mille a tutti grazie mille ad Ascan per la cover di questa settimana che stiamo vedendo super Ascan grazie a Sara da quella parte magistrale grazie a Micci anche solo per esserci perché comunque sempre là con le cuffie non ci ascolta nemmeno però li vogliamo bene grazie voglio ringraziare in tutta onestà anche Umberto di Cristoforo che è venuto a supportarci tantissimo devo ammetterlo durante la design week darci un sacco una mano grazie mille ci ha portato i salami ci ha portato i salami li ho portati qua Umberto lo dico li ho portati qui sono qui in questo momento i salami di Umberto che è una brutta frase da dire ma i salami sono di Umberto è così bene grazie mille a tutti ci vediamo giovedì no ci vediamo scusami domani domani c'è la presentazione di Apple quindi ci vediamo su Twitch live e poi mercoledì comunque facciamo sparare un puntatone ovviamente ciao 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 ciao